Ma, eh, eh, che devo fare? Vieni! Non è da ma? Ma non si bucchiare là? No, no. Che vuol dire che un bicchiato? Un bicchiato? Ma fotografare là? No, no. Vedi? Tutte scatole. Ah, certo. Come sarà questo lavoro? Ecco. Bello. Originale e bello. Quindi io faccio questo intreccio di loro. Certo. Ed ognuno mette una di questi qua. E poi c'è il girasole qua. Perché quello che li lega a queste persone è il girasole. Il girasole. E questa è quell'altra foto. Un'altra ancora? Quella è la foto principale. Io metto il girasole qui e poi dovrei fare tutti questi incasti. Un girasole qua vuoi mettere? Devo tagliarla la foto, devo frammentarla. Ecco basta. Posso proseguire? Sì. Ma allora, ma se no non... Beh, ma l'artista sa quello che fa. Perché? E dico, ci metto il girasole qua. Ma non il girasole vero. Sempre il girasole in foto. Sì. Dico, lo metto qua. Ma gli altri, va bene, ora. Poi l'ho capito che me lo stai spiegando ora. Quindi? Quindi verrà bellissimo. È molto originale. È bello. Dice tante cose. Ma anche lui che ha avuto questo pensiero di dirti di fare questo che ha capito l'arte tua, insomma. E no, però lo fa alla fidanzata sua. Sì. Ma perché ha trovato te? Che sai? Fotografia volumizzata. Fotografia volumizzata.